Chiudiamo ancora, con chi chiudiamo? Io chiudevo, visto che abbiamo un altro video degli Shendon Bravo! Ok, il brano si chiama My Friends Viola! Viola, ci piace di più Viola Ah Viola? E allora imparate a scrivere, massa di stronzi Si dimenticano Ciao a tutti! Ancora grazie agli Shendon! Grazie a voi